Benvenuto, sono Mike. Sono sempre stato attratto da cosa si trova dentro le persone, perché in fondo è la diversità ciò che ci unisce. Per restare sempre aggiornato, aggiungimi su Spotify, YouTube e Instagram. Questo è Zucchero Spinato Podcast. Dicevo va tutto bene e tu mi rispondevi ma tutto cosa? Eri la mia rosa, petali e spine, un libro senza fine ma con capitoli contrastanti. Io volevo solo fermarmi a pisciare ma guidavi tu e si va avanti, come amanti pieni di rimpianti, amanti di rimpianti. La mia condanna è stata avere tutto, perché ora non ho più niente da desiderare. Pacchetto completo, quindi ne ho avuto anche le bare. Levitare non è volare e non esiste gioia che non ti faccia male e lo scopriamo troppo tardi che è troppo profondo il mare. Il valore di un uomo è pari a ciò che può desiderare. Sei il mio tempo immisurabile, che passi, consumi ma sempre desiderato. Sei il mio sogno, quindi un'illusione. Sei solo dentro i miei occhi, fuori, sei come tutte le altre persone. Sei un io che ne vedo la bellezza, attraverso desideri ed illusioni. Se non fortifica abbastanza il viaggio, uccidono le destinazioni. Mi ha detto che gli ha concesso solo un vallo, ma di quelli che si rimane incinta. Spero almeno che con lui non abbia fatto finta. Desideri ed illusioni. Se non ti fortifica abbastanza il viaggio, ne trae l'idealizzazione e ti uccide la destinazione. Quello che avete appena ascoltato si intitola Capitolo 57, il viaggio, e oggi siamo qui con il cantautore dei Millevolti, Andrea, in arte schizzo. Ciao Andrea. Ciao Mike. Allora partiamo subitissimo, che sono molto curioso, nel sapere cosa ti ha suscitato il testo che abbiamo appena ascoltato. È stato un viaggio importante, non me l'aspettavo, quindi ti ringrazio perché è sempre piacevole provare delle sensazioni nuove. Ho percepito questa sfida, queste contraposizioni continue e mi ci sono ritrovato tantissimo. È un po' questa vita che ho vissuto anch'io, questi miei primi 50 anni di contraposizioni tra tante cose belle e tante cose meno belle. Il mix mi aiuta tantissimo ad andare avanti. Mi ha colpito tantissimo la frase, il valore di un uomo è quanto è disposto a sognare, quanto è alto il suo sogno. Quello che è meraviglioso, è meraviglioso e infatti cerco di non arrendermi mai, di sollevare sempre l'asticella e non è più un discorso di età, è proprio di volontà. È una mission. Esatto, anche perché te hai detto cantatore dalle mille facce, ma non ti fermi soltanto alla musica e testi riguardanti la musica, ma vai molto oltre, fai molte cose in più. Sì, sai Mike, penso di essere sempre legato alla tua, al testo bellissimo, non so, mi fa da filo conduttore. Sono un personaggio sicuramente nato in un periodo sbagliato. Non vale. Facevo parte di quella dei cantautori di anni 70-80, anzi più 80, più 80. Secondo me era il mio vero periodo, invece poi mi sono ritrovato a vivere dai fini 90, sì, 2000. Quindi in un momento in cui c'era stato, sai, tanti talent, era scoppiato praticamente, sai, primi anni 2000 e tutti i vari programmi dove c'è stata proprio questa contaminazione di musica, eccetera, e lì mi sono ritrovato travolto da una tempesta ed è stato difficilissimo trovare lo spazio, no? E quindi per rispondere alla tua domanda ho detto, ma come posso comunque differenziare, come posso comunicare meglio questo progetto? E quindi è nata la necessità di, oltre la canzone, oltre i dischi, ad esempio quella dei fumetti. Ho preso le mie dieci canzoni importanti, tramite disegnatori molto particolari o le ho raffigurate con dei fumetti. Ma hanno un filo conduttore questi fumetti? Cioè hanno proprio una storia che il primo corrisponde all'ultimo, come una serie, oppure vivono da soli? Mamma mia, che domanda, questo è, ma tu sei uno psicologo? No, devo dire che la, no, non ho mai seguito un percorso e ci sono tanti pezzi che magari scritti dieci, quindici anni fa, magari oggi saltano fuori e do un significato diverso, perché la cosa particolare della canzone, sai cos'è? Che non le scriviamo noi le canzoni, ce l'ha detta qualcuno. C'è vero il momento di scrittura, magari ti, in questo periodo sto scrivendo tantissimo con degli autori meravigliosi, però anche nel momento in cui mi trovavo a scrivere da solo, che succede tuttora, arriva quasi un messaggio. Mi è successo con un pezzo di una ragazza che è morta di overdose, quindi io ero un pomeriggio che mi sono fermato, ho sentito questo impulso fortissimo e la penna ha scritto da sola questa storia bellissima, no, di questa ragazza che è giovanissima e il testo e la musica, una delle rarissime volte sono venuti fuori di getto parallelamente. L'avevo parlato con il nostro grandissimo produttore, amico in comune, fila del focastro e l'abbiamo buttata giù. Pensa che ho impiuto 12 anni, se non mi sbaglio, quella canzone e ho parlato con tantissimi professionisti, volevo fare il fumetto, volevo fare il cartone animato e tu ti metti, sì sì, molto interessante, ma per un motivo o per un altro nessuno l'ha mai fatto, tranne quest'anno dove con un gruppo di lavoro nuovissimo io ne ho parlato e mi hanno detto, guarda, invece di fare il video facciamo una cosa noi. E hanno fatto un medio metraggio di 35 minuti dove hanno raccontato esattamente questa canzone. Quindi non c'è mai un, come dire, il tempo è un nostro limite, no? Dare il tempo alle cose. Esatto. E quindi la seconda risposta è che la canzone è arrivata, però quella canzone è arrivata da sola e quella ragazza che probabilmente non c'è più, probabilmente non ha fatto una fine stupenda e ha sentito la necessità di raccontarlo e fra gli 8 miliardi di persone che ci sono nel mondo, corregimi se sbaglio oggi, ha scelto me in quel momento e ha detto, guarda, gliela dico a lui e io l'ho sottoscritta. E quindi ti rendi conto sicuramente che c'è una magia. C'è il grande maestro mogol che la chiama scintilla, no? Esatto, esatto. Hai detto una cosa bellissima sulla quale voglio tornare, ovvero a distanza di anni, quando rileggi qualcosa, magari quando anche riascolti una canzone, ti ritrovi a rivivere, diciamo, la stessa situazione, mettiamola giù in modo un po' comune per tutti, comprensibile a tutti. C'è questa cosa che io sono dell'idea che le persone dicono nulla resta, nulla è per sempre, invece sono dell'idea che tutto resta, però noi non ce ne rendiamo conto ma cambia la forma, cambia il modo di esserci. E mi è piaciuto un sacco, mi ha fatto venire alla mente questa cosa quando tu hai detto appunto riascolti la stessa canzone anni dopo e ti sembra tutta un'altra cosa, tutta un'altra storia, tutta un'altra canzone, perché come diceva Alda Merini, la veduta è la stessa, però cambia in base a chi guarda. La finestra che apriamo è uguale per tutti, quindi la finestra sul mondo, se adesso io e te guardiamo fuori, vediamo la medesima cosa, eppure nella nostra testa la stiamo interpretando, la stiamo adattando al nostro passato, a quello che siamo, vediamo due cose completamente, magari anche opposte, distanti tra loro, dal semplice fatto di quello che abbiamo davanti. È come se avessimo, amo pensare, io sono un gran fan del film Matrix, no? Sì. Il primissimo è come dire, proprio un capolavoro che ha anticipato chissà qualcosa che succederà. Noi vediamo come se avessimo dei filtri negli occhi, no? Vediamo, amo immaginare, pensare, mi piace che da bambino quando nasci non hai nessun filtro, però sei ancora nella fase di incoscienza e quindi non ti rendi conto. Man mano che cresci, prendi coscienza, dimentichi tutto quello che vedevi e da grande invece, probabilmente quello magari poi crescendo prende poi un'altra forma. Tu pensa che, sempre per rispondere alla tua prima domanda, il primo pezzo, uno dei primissimi pezzi che ho fatto sempre con Filadelfo è stato, è un pezzo molto particolare che si intitola Dopo e parla di un mio cugino che ha avuto una vita parallela, siamo nati lo stesso anno, però abbiamo avuto una vita proprio opposta, non scendo nei particolari, ma una vita molto molto difficile quella di questo caro cugino. Mentre raccontavo la sua storia in questa canzone che si intitola Dopo, che ha più o meno 17 anni sta canzone, parlavo già di eroi, di supereroe e tu pensa che poi il disco Supereroi è venuto, è stato il quinto, il sesto lavoro, quindi già vedi che già 6-7 anni prima avevo anticipato, ma non lo capivo, l'ho capito poi dopo che sarebbe stato un... Forse non era ancora pronto, però la vita già iniziava a darti qualche spunto che poi dentro di te, un po' come un seme, la vita ti ha dato quel seme, tu dentro di te l'hai coltivato, quindi luce, pioggia, il tempo e quando era pronto è venuto fuori ed è sbocciato in questo capolavoro. Bello sì, devo dire che stai rievocando tante cose particolari, non c'ho mai mai pensato adesso a questo particolare di quella canzone, una canzone infatti che non so perché ma non è la canzone più bella, non è la più brutta, ma l'abbiamo sempre utilizzata come apertura dei nostri live per anni e anni, senza motivo, però invece il motivo non è vero che non c'è il motivo, il motivo è quello. Non lo vediamo ancora, ma poi perché molte cose, come diceva anche la mia psichiatra nella scorso episodio, quindi vado a citare un ospite che c'è già stato, il motivo quindi un po' la destinazione raramente si rivela durante il percorso, perché è giusto che tu faccia quel percorso a te, perché se no non l'assimili, non riesci a renderlo tuo se subito si rivela a noi. E non a caso la canzone che ti ho detto si intitola Dopo. Dopo, bravissimo, vedi? È incredibile. Il cerchio si chiude, perfetto, è lì. E il grande rimpianto sarà quello magari di non, quando arriveremo lì al passaggio finale, chiamiamolo che bellissimo. Esatto. E il rimpianto di cavolo volevo far questo, potevo far questo, quello lì mi preoccupa tanto, insomma. Però mi apre anche questo trapasso che probabilmente mi apre e mi stimola, chissà cosa succederà. Bravo. Mi viene da sorridere perché è proprio una delle domande che volevo farti. Se tu dovessi morire oggi, quale sarebbe il tuo grande rimpianto? È quello di probabilmente ho la sensazione di aver cominciato tardi a vivere. Io penso che quando nasci, proprio perché hai parlato della psichiatra, ho avuto anch'io, sono sempre stato appassionato, ho frequentato anch'io per anni e mi diceva sempre tu non, la vita non, non hai mai firmato il contratto, come se stai facendo una comparsa, non a me, non hai mai accettato di vivere. E com'è che si accetta? Eh, devi firmare il contratto e da quel momento comincia. Quindi comunque sia che io questo benedetto contratto l'ho firmato, credo, a 35, 36 anni. Quindi la mia data, insomma, che la mia età è vero che è 49, quasi 50, ma probabilmente... Sono meno adesso. Puoi raccontarla così, l'accettiamo assolutamente. Tra l'altro questa tua cosa bellissima mi ha avvocato uno dei ricordi più forti che ho avuto qualche anno fa. Io ho sofferto di un grande periodo di depressione dopo un evento che mi è accaduto e dopo due anni, ricordo ancora bene, mia sorella una sera in lacrime mi ha detto tu sopravvivi ma non vivi e questo mi distrugge. Quello è stato uno dei momenti chiave che mi ha portato poi a fare un percorso, a capire qual è il valore della vita e che non la stavo vivendo. Eh sì, è proprio quello che infatti... è da pelle d'oca questo eh. Non l'ho mai raccontato, sinceramente la mia prima volta. Ed è bellissimo il fatto di condividerlo assieme qua. Quindi alla fine non c'è un vero rimpianto perché poi sono un amante del destino, quindi tutto quello che succede è giusto, sia le cose belle che le cose brutte e poi daremo una spiegazione precisa. Quindi non c'è spazio per dire no ma avrei voluto... vuol dire che in questa esistenza qua, quella roba lì non dovevo viverla. Quindi sono... questo appaga tanto. Sembra quasi un alibi. All'inizio sembrava un alibi, poi invece... È una paraculata, posso dirlo tranquillamente. Se tu sei fin troppo bravo e te. Bella, sì. Quindi nessun rimpianto. Mi piace tutto quello che succede e devo dire che poi con il tempo tu la mattina mi alzo e dico grazie perché ho gli occhi aperti, vedo, faccio, ho degli affetti, ho un lavoro che mi piace tantissimo, delle passioni bellissime, quindi questo è... forse su dieci punti dieci sono tutti col flag verde, ma devo solo essere felice. E quello che ti diceva pranzo, perché a me mi piace che l'intervista è già cominciata pranzo. Esatto, non lo sapevamo come hai detto te prima, però stava già iniziando, stava già nascendo. Eh sì, è che praticamente la vita è questo qua, no? Le cose ti capitano e devi aprire le braccia e prendere tutto. Sì, tutto. Anche perché poi un rimpianto, se ci pensiamo bene, il rimpianto come lo vivi? Come se è un rimpianto verso qualcosa, cosa ho fatto? L'ho messo via. Sì. Perché se è diventato un rimpianto fa parte del passato. Nulla deve essere un rimpianto perché nulla deve essere messo via. Dobbiamo tenere tutto stretto a noi. Assolutamente. Ritornando un attimo alla testo quindi, visto appunto il viaggio che stiamo facendo, che abbiamo fatto, vorrei chiederti tu in questo momento a che punto del tuo viaggio di vita pensi di essere? Allora, da statistica, i 50-60, facendo finta che tutto vada bene con un'età media, cioè i 50-60 è quella fascia in cui vai a rifinire un po' quello che è costruito nei primi 40 anni. Soprattutto non sto parlando di lavoro, ma di personalità, no? Quindi di maturazione. Sì, sì. Quindi so i limiti, i suoi pregi, i tanti difetti. Quindi probabilmente da 50-60 sto cercando di lavorare. Con la carta vetrata, quella un po' più fine, sto cercando di limare tutti quei difetti così che sono talmente evidenti che sarei proprio bugiardo a dire non è vero. Quindi 50-60 sono quelli. Però ho cominciato anche un po' a godermela di più, ecco, a raccogliere i frutti. Perché poi mi spaventa quando vi tante persone che poi lavorano una vita per arrivare, preparare tutto quanto, poi un giorno me lo godrò. Invece oggi già un giorno buono per godere quel frutto dell'angelo. Dal giorno per vivere. Sì. C'era che diceva oggi un buongiorno per morire. Sì. Noi oggi la raccontiamo sul contrario. Col bicchiere mezzo pieno. Bravissima. Abbiamo questa grande fortuna di potermi andare. Sì. Oggi è un bel giorno proprio per cominciare a godere quello che ho costruito. Sì, sì. Mi piace. È bello avere qua una persona come te, sai. Tanti come dici iniziano il loro percorso, lavorano, sacrifici. E poi quando si rendono conto di dove sono nel loro percorso, cosa succede? La crisi di mezza età. Sì. E quindi quello che ci si è andato prima, i rimpianti, la distruzione più totale. Invece no, abbiamo la fortuna di avere ancora tanto da vivere e soprattutto tanta esperienza. Quello che ti dicevo io prima. Sì. Che sono un punto della mia vita dove ho tante consapevolezze, soprattutto verso me stesso. E quindi finalmente posso scegliere con più consapevolezza che percorso voglio fare. E ci abbiamo tutto davanti per vivere. Sì. Perché dipende da noi, non dal tempo. Sì. In bocca al lupo. Allora che sono nel qualche tunnel difficile è veramente di cuore perché... Bravo. Sì. Ci siamo passati tutti e due quindi sappiamo esattamente il peso di quella situazione. Non mi vergogno neppure di aver chiesto aiuto in quegli anni là. Bravo. Questo è un messaggio molto importante. Sì. È stato bellissimo il fatto di affidarmi a dei professionisti. Magari il primo e il secondo non c'è stata quella compatibilità, però già il terzo... Andavo a Monza, mi ricordo, da una dottoressa stupenda che mi ha fatto sentire. Lei era bionda, tutta scompigliata, era molto grande d'età. Aveva una poltrona come Dylan Dog, no? Sai quel poltrone... Era già leggenda. Era già leggenda. Fumava, non gliene fregava nulla. Fumava l'MS, mi ricordo. Quindi mi ricordo questa nuvola di fumo. Lei che parlava e mi ha... Lei che mi ha fatto firmare il contratto di qui prima, il contratto con la vita, i paletti e... Quindi grazie di cuore è stata veramente la scelta più saglia quella di affidarmi a una professionista. Grazie. Questo è un messaggio stupendo perché come abbiamo detto appunto nella scorsa puntata, spaventa molti. Invece, secondo me, come dicevo, io mi vanto. Io sono contento di dire... Cazzo, ad un certo punto della mia vita mi sono reso conto che stavo buttando la vita, che non riuscivo ad uscire, però avevo ancora tanto che volevo dare. Fuori avevo tanta sofferenza. Dentro avevo tanta voglia di dare qualcosa. Avevo la luce in fondo al tunnel, ma quella luce in fondo al tunnel non dovevo... Io non la vedevo davanti a me, proprio perché era dentro di me. Bellissimo. E dovevo coltivarla e tirarla fuori, farla vedere il mondo. Bellissimo. Abbiamo parlato tanto di supereroi. Infatti adesso sto guardando a tuo bellissimo vinile e volevo chiedere a una persona come te, non che cosa è un superero, ma come si diventa in questa vita dei supereroi? Quali sono le caratteristiche? Allora, è una domanda da 10 milioni di dollari, perché è anche una domanda commerciale, perché è legata alla mia attività. Dove credo nei supereroi è proprio la mission della nostra società, della nostra company. Però al di là di quello, proprio a livello personale, il diventare supereroi è imparare a conoscere se stessi. Questo è fondamentale. Questo è proprio il bingo, proprio il centro assoluto. Quindi tu impari a conoscere te stesso e già tu diventi supereroe, perché conosci esattamente i pregi e i difetti della tua persona. E il potenziamento, il super supereroe, perché poi c'è anche il super... Lo step successivo che guadagna qualche skills in più. Esatto. È quello di trasformare il tuo difetto più grande in superpotere. Cercare di ottimizzarlo al massimo. Questo noi, scherzi a parte, lo facciamo con tutti i ragazzi che... Ho la fortuna di fare un lavoro dove ci occupiamo di formazione, di ragazzi che poi verranno introdotti nel mondo delle pubbliche relazioni, fondamentalmente, sia nel turismo che altre. Quindi capisci benissimo che siamo in un momento molto complesso. Le pubbliche relazioni le viviamo in maniera molto complessa a causa e per fortuna, perché comunque abbiamo pregi difetti anche del telefonino, del social network, di Inter in generale, le pubbliche relazioni stanno diventando molto complesse. Una chiacchierata come quella che stiamo facendo dietro a livello intimo è prezioso come è. Sì, assolutamente. Quindi ecco, quello che facciamo tutti i giorni è cercare di magari di incontrare gruppi di ragazzi che inizialmente sono molto introversi, magari non propensi a quella che è la socializzazione e pian piano tirarla fuori invece scoprire poi dopo pochi mesi magari che sono delle persone che ma che bello, ma bellissimo. E questo è veramente bello. bello, mi piace. Io sono una persona che non ho tantissimi amici, all'infuori soprattutto della musica, non ho una grandissima vita sociale, lo ammetto, però mi rendo conto che il contatto con la gente, possiamo dire, crea una dipendenza. C'è un po' quasi una cosa che all'inizio ti fa un po' strano, poi più senti dentro più ne senti il bisogno, perché avere una chiacchierata faccia a faccia, questo face, è una cosa che tu puoi dare all'altro ma nonostante magari anche quando tu ti esprimi ricevi, ricevi già solamente appunto con l'interazione sociale, con gli sguardi, la chimica che si crea, quindi è già di persona magia e io sono convinto che crea dipendenza. Ma sai, mentre parlavi stavo riflettendo e meno male che non c'è la telecamera, che avevo poi gli occhi che stavo immaginando, mi è fatto venire in mente la parola chimica, pensa quanto è costruito i rapporti che nascono da ragazzi, ma anche persone grandi, relazioni sentimentali che nascono tramite una chat e c'è qualcosa di particolare che non sta in piedi, perché manca tutta la parte chimica che poi ne determina veramente il funzionamento o meno. Poi è vero che poi si incontrano, però la magia di subito di partire con la chimica secondo me è insostituibile. Esatto, che tra l'altro prossimamente ci farò un video perché non vedo l'ora di essere distrutto. Io sono proprio contro il colpo di fulmine, però riagganciandomi a questo bellissimo discorso c'è stata una ragazza che ho iniziato a conoscere su internet, sicuramente ero influenzato da quello che lei voleva mostrare, perché su internet abbiamo questo grande potere che decidiamo noi cosa mostrare e come mostrarlo alla gente. Quindi lei decideva come mostrarsi sia dalle fotografie che dalle frasi. Io la guardavo con ammirazione, non la conoscevo. Sai, io ero preso, mi piacevano le sue frasi, il suo modo di vivere, che lei tengo a sottolinearlo, mostrava. È tutto gasato, sembrava che dopo sei mesi che la seguivo sui social e ogni tanto ci sentivamo, mi sembrava di conoscerla da tutta una vita, cioè lei era sempre lì con me, perfetto. Siamo usciti insieme un paio di volte, te lo dico subito, sono scappata, gambe elevate, perché poi dal vivo le maschere crollano, le maschere crollano. Vedo il pacchetto completo. Sì, ma poi c'è anche, c'è tutto un, io sono nato fondamentalmente in un periodo in cui non c'era internet, e quindi era troppo importante il profumo, sempre con la pelle di una persona, l'odore che emana, la luce degli occhi, ma torneremo. Io penso che, amo pensare che la storia, la tecnologia, tutto quel mondo là è meraviglioso perché ci aiuta tantissimo, ma troverei la sua collocazione. Un po' come tutto, vediamo come i grafici in borsa, come qualsiasi cosa, schizzano le stelle. E poi si... E poi si iniziano un po' a spegnere, ci saranno sempre, però la gente impara, perché ovvio cazzo, una nuova esperienza, un nuovo giocattolino, tu ti ci butti a capofitto, anch'io sono così, ogni volta che scopro uno strumento musicale, un nuovo youtuber, un nuovo podcast, ascolto solo quello, mi ci butti solo quello, la mia vita dipende solo da quello, faccio un tatuaggio, ne voglio altri 600, poi dopo col tempo impari un po' a regolarti. Io penso che anche le interazioni sociali adesso si vede, stiamo davvero sfociando nell'estremo e si sente un grande bisogno di tornare alla magia che c'era agli albori. Pensa, ieri sera ho fatto un aperitivo con i vicini, era domenica sera, domenica sera è una sera che è alle 18, domenica sera puoi stare a casa, invece poi ho fatto lo sforzo di andare su ed è stato bellissimo, è stata una magia, sono stato bene, ma cavolo ma questo devo farlo più spesso. Semplicemente abbiamo bevuto un bicchiere senza esagerare, abbiamo mangiato qualcosa insieme, abbiamo raccontato le esperienze di vita e è stato bellissimo, quindi vedi sì assolutamente, sforziamoci di farlo perché... Bravo, anche quella cosa che ti hai detto che tante volte sa, io lo condivido in pieno, probabilmente mia mamma quando sentirà questo segmento mi falcerà come materazze a tempi d'oro, però c'hai ragione, ogni tanto dobbiamo fare quello sforzo in più perché poi quando lo stiamo vivendo e quando termina abbiamo guadagnato qualcosa in più di molto grande, che se no non avremmo acquisito con nulla, sono esperienze che non possono essere sostituite, non possono essere per forza fatte in quella maniera lì. E poi tornando al discorso iniziale hanno un perché, anche il mio aperitivo ieri ha un perché sicuro. Doveva portarti da qualche parte, se la vita te l'ha messo lì, sicuramente. Come oggi la nostra intervista. Esatto, bravissimo, assolutamente. Voglio farti una domanda molto particolare, mi è venuto in mente, parlando appunto di social così, ho notato guardando il tuo profilo quando mi hanno segnalato di interessarmi a te come ospite. Le forze dell'ordine, giusto? Esatto, non so come definirle perché poi esatto, se intercettano anche questo podcast devo avere abbastanza paura, quindi adesso mi sono tirato sulla schiena su tutto, attenzione, guarda un po' in giro. Ho visto che spesso i tuoi post, la descrizione dei post, li inizi scrivendo caro Frank. Ah, che sì, Frank è un amico immaginario, nato come interlocutore. A me nel primo periodo quando c'era solo Facebook, mi piaceva, l'ho utilizzato, allora vengo da MySpace, quindi io l'ho vissuto proprio al declino, all'ultimo, ma è spesso, cioè come l'ho fatto io, forse è un colpa mia, una settimana dopo era finito. Ah, bene. Cioè ho fatto in tempo a dire oddio, ce l'ho, il giorno dopo lo riapro, oddio ma è fallito. Poi c'era stata la versione italiana, dammi spazio. Ah, quella non l'avevo scoperta. Tra l'altro era del famosissimo, Eros Ramazzotti, del fratello, dammi spazio. Mi hai detto una cosa che proprio non sapevo. Mi ricordo che avevo un amico che aveva a che fare, che ci lavorava, e poi quando siamo approvati su Facebook, mi ricordo proprio, avevo proprio il piacere di, all'inizio l'ho timidissimo, poi l'utilizzavo come diario, il diario che non ho mai avuto da ragazzo, perché non immaginavo l'entità, la grandezza, quanto potesse arrivare lontano, quindi io lo usavo come diario privato, mi rendevo conto, vedi, di scrivere delle cose anche abbastanza particolari, magari. Ma interessati, grazie. E quindi mi sono trovato lì e quando la gente mi fermava, ma Frank, perché è Frank? Perché è Frank? E ma Frank è l'amico con cui parlo. Certe volte Frank rappresentava me stesso, quindi era una parte di me, bravissimo, parlavo con me stesso e quindi giustificavo, spiegavo, oppure proprio un trucco teatrale, il fatto di parlare a un'altra persona, lo utilizzavo come persona immaginaria, oppure poteva essere la terza opzione, una persona di cui non volevo fare il nome e mi piaceva rivolgermi a questa persona, chiamandola Frank. Quindi la risposta è triplice. Precostumi. Sì, padre, sì. No, 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 scherzi a parte. Ed è nato in un... perché Frank? Perché è nato in un locale a Milano, in via Vittorio Veneto, che se non mi sbaglio ha chiuso proprio qualche settimana fa, è un locale famosissimo di... proprio si chiama Frank, dei Notorious, dove si facciano gli aperitivi. Io avevo preso intorno a... forse tra il primo e il secondo disco, un anno sabatico, mi ero proprio licenziato, volevo proprio... non mi dedico alla musea, ma ho voglia di stare con me stesso, mi ero proprio ritirato, come dicevi tu. È importante. E tutti i pomeriggi andavo lì a Milano, che è la zona porta a Venezia, con un blocnotes e mi siedevo in questo locale, bevevo il mio gin tonic, perché sai, sono un grande fan del gin tonic degli anni, e cominciavo a scrivere. E quindi... e questo sistema di sedermi lì mi ero reso conto che attraeva tante persone. Quindi la gente che sapeva che scrivevo... Sava via e ti vedeva lì. Mi vedeva lì, guarda, sta parlando di Frank e cosa. Oppure la gente che non mi conosceva, siccome ero fisso là, catturavi l'attenzione, non so, del personale, poi man mano... e quindi tutti chiedevano. E quindi si era creata questa leggenda di Frank che ho deciso di tenere. Abbiamo deciso col produttore Filadelfo di scriverlo un pezzo su Frank, però ce la rimandiamo da tanto tempo, adesso prima o poi la... Penso che sia un brano iconico, importantissimo, quindi ci vorrà. Glielo dobbiamo a Frank. Frank con la K, è importante. F-R-A-N-K. Giusto specificare. Io sono sicuro che quando sarà, come ci siamo detti, il momento perfetto, quel brano arriverà da solo. Sì. Dovrai ne sforzarti. Mi piace. Te sei uno quindi che scrivi di getto, non ti sforzi a scrivere. Lascia andare alla penna. Guarda, ho passato tantissime fasi. Cioè la fase in cui mettevo, voglio scrivere una canzone, mettevo lì col dizionario. E quando non c'era ancora Wikipedia e magari lavoravo con lo Zanichelli. Poi c'è stato il periodo in cui aspettavo la scintilla che sviluppavo. È un momento molto bello, è un team di professionisti con cui ci raccontiamo il tema, ci chiudiamo in una stanza, passano, c'è l'umore della giornata, l'energia che si ferma e passano degli argomenti. E quella è la bravura in quel momento, catturare l'idea centrale e buttarla giù. Quindi questo è un momento secondo me massimo di scrittura. E infatti gli ultimi lavori sono molto legati agli ultimi lavori perché è il frutto proprio di un team. Poi senti proprio che gira nell'aria. Tu devi solo acchiapparlo e buttarlo giù. Mi affascina tantissimo questa immagine di un team di professionisti che si mettono in questa stanzetta tutti insieme e si lasciano ispirare dalla vita e dagli altri artisti. Per chi è anacronistico, anche se ci pensi, quando Battiste, Mogolle e company scrivevano in tanti. Invece ultimamente la tendenza della scrittura molto spesso, ma ci sono ancora tantissimi che lo fanno, però ce ne sono anche tanti che da soli realizzano dei capolavori assolutamente, non fra intendo. Però il lavoro di squadra, come dire, a ciascuno il suo mi affascina. Il fatto che le parole fossero di Mogolle, Battiste, infatti sono canzoni che ancora oggi continueranno ad esserci. Quindi il team, siccome sono anziano, sono schierato con il team, anche i musicisti lo scegliere a seconda del pezzo, ma poi coinvolgiamo questo poi, una volta scritto il pezzo coinvolgiamo questo batterista perché ha il tiro per questo. Bravo, la scelta di giusti musicisti. Il mix finale. L'anima giusta, che si incastri con il messaggio che tu puoi portare. Mi piace. E questo crea anche il fatto di... Allora, a parte canto autorale, solitamente da solo tu più o meno la direzione è quella, no? Nel senso che il mood, quando tu senti una canzone dei Gregori e una canzone dei Gregori, quando senti una canzone di Ligabue, quella eccetera eccetera. Il fatto di lavorare in grandissimo team mi sta permettendo di cambiare continuamente, di sperimentare le gine nuove. Se penso all'ultimo pezzo, ultimamente abbiamo sperimentato molto rock. Abbiamo fatto poi dal rock, siamo passati al rock elettronico. Adesso l'ultimo pezzo è quasi completamente elettronico. Lo stiamo terminando, questo qua uscirà credo a ottobre, no? E anticipiamo il titolo Favola Reale, di cui stiamo già girando. Mi piace, Favola Reale. Sì, sì, sì. È quasi uno simolo. È figo, però anche un bellissimo messaggio. Ed è un pezzo che da elettronico diventa quasi dance, quindi una pazzia. E questo, ripeto, è dovuto alla contaminazione di tante teste. Di più arti. Sì, molto bello. Tra l'altro mi viene in mente proprio una delle primissime cose che è accaduto stamattina tra me e Phil. Io sono arrivato qua, ho detto ok, c'è Andrea come ospite, le ho mostrato il testo e li faccio. Allora, io avevo pensato alla musica di farla, chitarrone elettrico, proprio bello rock. Ho sentito il suo ultimo brano, mi piacciono quelle vibes, quell'energia. E Phil mi guarda e mi fa, ma in realtà lui è più per la chitarra acustica, però non lo so, magari non lo conosco abbastanza. Sì. Quello che tu sei andato a creare fin da subito. Sì, sì. Poi la chitarra acustica è, come dire, la sera prima di andare a dormire un'ora, cioè la camomilla, il bacio al bambino, la moglie e un'ora o una mezz'ora di chitarra acustica. Sì, sì, questo Phil lo sa benissimo. Perché poi di base la prima scrittura, anche in team adesso, nasce quasi sempre dalla chitarra, sì, dalla chitarra acustica. Bello, mi piace. Tu porti la tua idea un po' e gliela presenti così. Molto spesso l'idea nasce, ci vediamo, faccio un po', insomma, l'autore dei testi Stefano, piuttosto che Fila con la musica, eccetera. Sì, arriviamo con i compiti fatti, però solitamente vengono stravolti, perché si crea quella magia, quell'alchimia magica e dici, ma prendiamo questa direzione. Quindi diventa solo, tra virgolette, solo di ispirazione, per far capire, per far passare il messaggio, poi ognuno giustamente gli mette i suoi panni. Sì, sì. E lo rende sua, lì la magia. Sì, assolutamente. Bellissimo. Una volta avrò anche la fortuna di assistere. Sì, la sessione di scrittura è pura magia. Sì, pura. Esatto. Senza trucchi. Senza trucchi. E pura magia senza trucchi, sì. Viene da... perché non la riprendete? E perché riprenderla, poi mi chiedo? Perché rovinare... Esatto, quel momento. Sì, è bello così. Se la possa influenzare tutto. Lasciamolo così. Invece no, ci vuole proprio il prodotto crudo. Mi piace. Prima hai detto che hai una bambina, corretto? Un bambino. Un bambino. Un bambino. A quanti anni? A due anni deve fare due anni e quattro mesi. Chiama Enea. Bene. L'ho già grandetto, insomma. Non era in preventivo. Prima ti hai detto che 35 anni hai firmato con la vita. Esatto. Se facciamo il calcolo della tua età non sei poi così vecchio. Io sono un papà giovane, vuoi dire. Sì, cavolo, sei nel pieno dell'adolescenza. Caro Mike, mi piace. Cavolo, dico, non buttarti giù, sei nel pieno dell'adolescenza, c'è ancora tutto davanti. No, stavo dicendo, non era preventivato, nel senso che nella vita, ma chissà, secondo me poi tra lavoro, impegni, eccetera, mi è sempre piaciuta l'idea. Però hai detto, secondo me è difficile trovare poi quel momento giusto, la persona giusta. Invece poi è arrivato quel momento là e... Ritorniamo al primo discorso. Chiedere al momento giusto. Bravissimo. Comunque non avevo la testa prima, invece adesso è tutto preciso. Pensatella, l'universo ti ha fatto fare le tue scelte, le tue esperienze, è stato lì a guardarti. Sì, sì. E poi hai detto, boom, è il momento, esatto, a mettere lì. C'è una grandissima curiosità adesso. Tu stai ancora, questa non è la curiosità, è proprio una premessa. Stai ancora con la tua compagna, con la mamma di Enea? Sì, assolutamente. Felice, mi sembra che festeggiamo. Adesso ti sbaglierò sicuramente, quindi botte. Sei anni. Sei anni che stiamo assieme, felicissimo. È proprio bello. L'è arrivata durante la fine di un altro rapporto, proprio sposato. E la vita, un rapporto che sembrava sulla carta perfetto, invece poi la chimica è venuta a mancare. Molto velocemente. Infatti è una storia molto difficile da spiegare, però effettivamente io penso che siamo stati molto sinceri. Quindi non funzionava, c'è stata sofferenza, perché comunque quando poi termini un rapporto è impossibile da sminuire e dire ma sì. No, è stata comunque una sofferenza, però è servita per rinascere a vita nuova. È stata una sofferenza ma un insegnamento. Sì, non riuscire a concepire la vita oggi senza la mia compagna è assurdo. Sì, sì. Quindi, visto il tuo estro artistico, volevo chiederti che poteri deve avere una donna per catturare la tua attenzione e conquistarti? Cos'è che... Posso dire una parolaccia? Posso dire? Sì, assolutamente. Ma deve lasciarti i coglioni in pace, la donna. No, dai, questa mi piaceva l'idea di, insomma, come dire, di sdrammatizzare. No, è fondamentale. La frase è forte, però un po' sintetizza, cioè è importante per entrambi, quindi sia per me che per Anita, trovare l'equilibrio. Cioè lei quando parlo di lavoro, devi lavorare. Quando parlo di musica è quasi più importante del lavoro, quindi vai, fai, eccetera. Quindi il rispetto dello spazio, quindi la coppia non deve ammazzare il singolo, è fondamentale. Però questo te lo puoi dire, però poi ci deve essere proprio la complicità, perché è proprio complesso. Quindi il rispetto dello spazio è rinnovarsi, perché poi l'amore cambia, nel senso che poi il bambino combustola tantissimo, quella è la vita di coppia, eccetera. Quindi salti la mattina e dire, ok, cosa mi regala la vita oggi? E tu devi prendere quello che ti dà. Quello che ti arriva, esatto. Esatto, poi devi essere bravo te a dargli la forma, che più ti si addice. Quindi il rimpianto, non ho ancora scritto, me lo dice mia moglie, la canzone per il bambino. Insomma, ne facciamo tante canzoni che parlano di Enea, di Anita. L'ultima, il prossimo singolo che esce, credo, a fine mese è Super Luce. Super Luce pensa che è la combinazione della parola luce, che è il nome familiare con cui chiamo Anita. Io la chiamo Luce, perché lì viene dalla fotografia e fotografi prima di andare a lavoro, l'augurio che si danno è buona luce. Non lo sapevo. Sperando ci sia una luce bella per fare degli scatti della Madonna. E Super è legato all'altra parola che mi appartiene da una vita, che sono i supereroi. E quindi Super Luce. E infatti la canzone è un pezzo molto particolare. Ripeto, mancano pochi giorni, quindi insomma. E l'abbiamo immaginata proprio perché si chiama Super Luce in bianco e nero. Sono i due opposti, no? I due opposti e in mezzo c'è tutto tra il bianco e la naturalità dei colori, no? C'è tutto quanto. Esatto, c'è tutto il mondo. E quindi stiamo guardando veramente tutto nemmeno in particolare, un pezzo che sentiamo tanto. E questo parla ad esempio moltissimo del rapporto, il fatto che tu puoi fare durante la giornata di tutto. Ma quando apri la porta di casa la sera mi rendo conto che il mio posto in tutto l'universo è quello là, è casa mia. Ecco questo è il segreto, so che è il mio posto e non c'è un altro posto, né un locale a Milano, né un locale a New York, né le... No, io voglio stare lì con quelle due persone. Hai detto una cosa molto importante, ovvero l'essere già completi di per sé. Perché tanti, tanti cercano nell'altra persona, cercano nell'amore qualcosa che li completi. Invece io sono dell'idea che tu devi già essere completo di tuo, l'altra persona deve essere già completa di suo, insieme siete qualcosa di più. Perché solo lì, sennò diventa come una dipendenza, diventa... la vivi anche male perché se succede qualcosa vai in crisi. Invece deve essere una cosa proprio serena, piacevole, un regalo. Bellissimo, uguale, hai detto una... questa è matematica questa. Matematica applicata alla vita. Sì, bellissimo, sì sì sì, assolutamente. E tra l'altro... Ti vi sei già completo di tuo. Esatto, mia mamma proprio l'altro giorno, o lei ogni tanto giustamente mi buttarla la battuta perché come un po' di anni che non le porta a casa una qualche ragazzina. Mi fa... te ma non è quasi ora che ti trovi una compagna? Così lei va sempre sul sottile, non è che gliene frega molto di distruggermi. E io le ho detto, mamma guarda, attualmente sono già abbastanza bravo a mettermi in crisi da solo. Poi la battuta parte le ho detto appunto che io sto facendo un percorso con me stesso. Perché prima io devo stare bene con me stesso, è fondamentale che ci sia quell'io che conosca me, che sia completo. E poi posso accogliere un'altra persona anche perché comunque la mettere in difficoltà questa povera ragazza che arriva da me, io sono il cerbiatto spaventato e tutto. E lei deve anche sopperire i miei malumori, sopperire ciò che poi quelli ci sono comunque. Quindi in più se andiamo anche nel momento sbagliato, cioè che carico li tiriamo ad osso questa anima gemella. Non è neanche un volerle bene. Cazzo io non voglio una ragazza che mi dedichi la sua vita, il suo amore, il suo dolore anche per poi invece io esserle a metà che non le tiro ad osso solo gatto. Questa è la formula vincente questa qua. Essere completi già di per sé e trovare una persona già completa e sì. Questa è da brevettare forse. Quindi guarda il segreto dell'amore, del segreto. Questa qua, l'essere completi di per sé, trovare un'altra persona completa di per sé e scrivere un nuovo libro. Una canzone nuova, un nuovo libro. Adesso prendiamo appunti. Esatto, facciamo mettere giù subito da fila la referenza e ci siamo. Un nuovo libro. Torniamo un attimo su Andrea. In questo momento tu, questo Andrea che io ho davanti, è fiero del suo percorso ma soprattutto è un punto dove si sente arrivato? Oppure sta facendo il suo percorso e c'è qualcosa dove lui vuole arrivare e mi dici io quando avrò fatto quello potrei dire che sono fiero di me. Adesso sono consapevole che non per forza il fatto di non essere arrivato abbatte molte persone. Per me è una figata perché alla fine devi goderti anche il viaggio. Come dicevo io nel mio testo, se non hai imparato dal viaggio, se il viaggio non ti ha dato la forza, non ti ha fortificato abbastanza, la meta ti distrugge. Secondo me è quello. Poi soprattutto per gli artisti che sono persone destinate ad arrivare a qualcosa di più grande, di in alto, di importante. Se non hai fatto il tuo giusto percorso ti fai solo del male. Ma penso che, allora, mentre parlavo ho riflettuto, la sto pensando a un pezzo che non è vero che non mi hanno scritto i pezzi poi per, sia il pezzo per Anita Superluce, il pezzo più forte per Enea. E infatti più forte parla proprio di quanto è importante tutto quello che succede nel viaggio. Per rispondere un po' allora, ma io penso di sì assolutamente. Io ho trovato, lo scopo principale della mia vita oggi, se devo essere sincera, era trovare un equilibrio fra tutte le varie cose che faccio alla mia personalità. Quindi il fatto di avere un lavoro che mi piace, di dedicare tanto tempo alla musica e all'arte, i fumetti, la scrittura, questa parte qua. La famiglia, quindi il fatto di aver trovato un balance preciso ti posso garantire che per me è già un grande, ma ti giuro non ho una risposta da paraculo. Mi rendo conto che è un grandissimo privilegio, il fatto di poter dedicare alla famiglia, all'avore, come se dovessi 33, 33, 33, è bellissimo, no? Perché è una cosa incredibile. Quindi sì, devo dirti che in questo momento probabilmente lo sbilanciarsi di uno dei tre pilastri potrebbe creare un problema. Quindi dico perché? È già bello così, sì, perché si rincorrono tutti e tre. Quindi oggi non c'è una... Se la domanda poi è implicita mi vuoi dire ma il sogno della musica c'è stato per tantissimi anni, sarei bugiardo a dire no, la musica mi ha fatto star bene e oggi ho dato proprio il senso preciso. La musica mi fa star bene, mi realizza e compensa tutte le altre cose. Però per tanti anni è stato lo rincorso, no? Poi questo non significa che oggi la musica la facciamo a un livello sempre più alto, coinvolgendo sempre più professionisti, studiando di più. Prima facevamo un disco all'anno, oggi facciamo un disco all'anno e facciamo anche 15 singoli all'anno. Quindi siamo cresciuti come dei pazzi con la musica, no? Con Phila e con tutti i collaboratori. Quindi probabilmente ecco, avendo trovato il balance dei tre elementi, la famiglia, la musica e il lavoro, vorrei sollevare la sticella in tutti e tre. Però senza scombustolare l'equilibrio. Quindi mi piace. Ti piace questo? Quindi dando il giusto apporto. Apporto ogni cosa. Sì, sì, sì. Non c'è spazio per altro però. Mi piace perché tanti, tipo faccio una frase giusto paraculata, che il tempo durante il giorno è sempre 24 ore. Sì. Tutte quelle cagate che ti raccontano. Però è anche vero che se puoi fare più cose fatte bene e non andare a togliere da qualcosa per mettere nell'altro. Soprattutto quando parliamo di sentimento di estro, quindi famiglia, musica, fumetti nel tuo casa, cioè vedere tutto quello che hai fatto eppure riesci a dare a tutto ciò un'anima e la giusta importanza. Cioè non sono cose fatte a metà, sono cose complete. C'è un quarto pilastro di cui non ho ancora parlato, che è lo shopping convulsivo. Quella è una fregatura, sì. Però quella è la parte, no, occupa una parte più umana. Però devo dire che, sì, più del social network, più del resto lo shopping convulsivo. Se ci pensi, una delle caratteristiche fondamentali del supereroe è proprio il costume. Il costume, bravissimo. Quindi vedi che c'è sotto sotto, c'è un rimasto anche lì. Guarda, mi hai trovato una giustificazione che vale l'intervista. La tua compagna verrà a prendere, non dirle dove abito, ti prego. Cavolo che... Bravo. Devo rimettere l'allarme in sua casa mia perché è qua a diventare... Abitiamo vicini, bravo. No, non dirla che se poi lo sento la tua compagna adesso sta già iniziando a cercare, a mettere in giro la voce. Quindi sollevando, sì. No, no, scherzi a parte, no, lo shopping convulsivo sono quei cinque... Dopo la chitarra acustica, proprio prima di dormire, prima di guardare magari il pezzettino o su Disney+, o su Netflix, eccetera, eccetera, guardare il... Il catalogo. Sì, il catalogo, sì, sì, sì. Che poi compro chitarre, orologi, un po' le solite cose, no? Noi uomini siamo... Orologi, vedi, io ho una collezione cinquantina di pezzi di orologi della Swatch, però sono questi qua animati. Ah, infatti stanno guardando, è particolarissimo. A me piacciono questi qua particolari, dai. Ma cosa ne pensi invece della collezione Swatch Omega, dai, fuori onda. No, sopravvalutato. Vero. Sì, sì, sì. Questo ti fa proprio capire la pubblicità, il commercio, gestisce le persone. Dove siamo arrivati, che poi appunto di per sé mi piacciono, come a vedere l'aspetto e tutto, però non sono stato neanche ad informarmi, che comunque so benissimo anche il mio collega che ce li ha tutti, quindi potrei benissimo sapere come recuperarli, perché tante cose sono leggende che non si trovano. C'è una metodica che hanno applicato i negozi della Swatch. Sì, sì, sì. Per creare un po' questa narrativa, bravissimo. Quindi alla fine possiamo fare i complimenti all'azienda Swatch, che ha creato una storia bellissima. Sì, sì. Il punto è che la storia è stupenda, la canzone è niente. Bella. La canzone è un po', hai fatto il compitino. Tu sei lì sul parco, mi racconti questa storia super mega incredibile, che tu sei lì, ti alzare le aspettative, chissà dove, sei con la bocca aperta. Poi parte la canzone in quattro quarti, giro di dopo e dici, cosa scusami. E quindi ti crolla tutto, cioè per me, se posso raffigurarla, sarebbe questa. Ma sai che prima, legata alla domanda di prima, Mike, tu mi fai pensare tantissimo, il cervello va su di giri. Cioè, allora, la convivenza, infatti se tu vai nei miei social, c'è nella descrizione, quindi cantatore diviso, con due anime, fondamente, cantatore con due anime, una rock, che poi va bene, pop rock a seconda del periodo. E poi c'è il mondo dei bimbi, no? Perché ho scoperto che poi nel tempo dei supereroi, poi mi sono avvicinato proprio alle sigle per bambini, che mi sono trovato con fila a farle per lavoro. Invece ho scoperto che c'è una risposta incredibile, piace veramente tanto e stanno aumentando tantissime richieste. Quindi io penso che in futuro ci saranno un sacco di sigle per bambini, quindi poi dovremo decidere come schierarci, se continuare con gli Iron Maiden oppure con Cristina D'Avena. Belle le due figure che ho voluto portare. Gli eccessi. Esatto, perché molti appunto, adesso non più i genitori che adesso sono più sul pezzo, perché comunque sono cresciuti con internet, con questo andare a prendere spunto da più cose. Ma ai tempi, quando ero piccolo, se provavo a riffigurare gli Iron Maiden a un bambino di 7-8 anni che veniva giù il mondo. Sì, sì. Mia sorella, ad esempio, lei aveva la fissa proprio per gli Iron Maiden. Mia mamma temeva di avere in casa una satanista. Era la fine se fosse andata, che tra l'altro poi l'ha portata al concerto del Luna Pop e quando era un po' più grande, perché poi mi è passata, me è un po', salutiamo Cesare, mi è passata dagli Iron Maiden. Non stavo per dire che mi è caduta nel Luna Pop, no, assolutamente no, non sia mai. Mi è passata dagli Iron Maiden al Luna Pop e mio papà l'ha accompagnata a vedere il Luna Pop in uno dei loro primi concerti, parliamo di 20 anni fa quasi. Sì, sì, sì. E Cesare il bassista, in quell'episodio, sono rimasti in mutande a suonare sul palco e adesso sembrerebbe una cosa che uno dice su questi cazzi. Ma 20 anni fa, per te, padre di... che poi mio papà è giovanissimo, ha avuto mia sorella da stragiovane, quindi non arrivava, arrivava forse sui 35 anni, 36 mio papà, porti la tua figlioletta di 12-13 anni a sentire una canzone e dici, cazzo per fortuna, non sono a vedere di Iron Maiden, non c'è un giro Eddie, non c'è un giro Dickinson, sono tranquillo, alzi gli occhi e ti trovi sul palco due mutande che cantano. Ballo con Cesare. Esatto. Ma lo racconta spesso Cesare, lo racconta con orgoglio, sì, noi volevamo essere un... Per questo che ha fatto. Di rottura, sì, la scelta era proprio quella, di rottura completa con quello che c'era e quindi cercavano, quindi... Perché non riesce a trovare un collante. Sì, onore a loro, sì, sì, viva il Luna Pop! Assolutamente vero, anche il percorso, comunque scherzi da parte, che ha fatto Cremonini, è una cosa incredibile. Sì, stupenda. Come lui si sia comunque non riadattato o reinventato, ma sia stato fedele al suo percorso. Ecco, in un Cesare vedi proprio il percorso che dicevamo all'inizio, vent'anni fai, te la godi, tutto. Cioè senti proprio la voglia, il dovere, non so nel loro caso, di fare la musica in quel modo lì, quindi rispetti te stesso e butti fuori quello. E poi la musica con Cesare ha fatto, mi permette di parlare per lui, ha fatto il suo stesso percorso ed è arrivato a fare una cosa quasi completamente opposta, ma però che ci sta per l'età, per il vissuto, l'esperienza, ci sta perché la canzone è quello che sei veramente, quello che sei dentro, quello che la vita in molti casi ti impone di fare, tu ne senti il bisogno e quindi è anche giusto che tu non fai il cinquantenne in mutande che prova a fare il ventenne perché sei diventato famoso così. È giusto che tu rispetti te stesso, gli ascoltatori e soprattutto la musica che fai. Assolutamente, comunque grande citazione quella degli Iron Maiden che sono stati, anche loro l'hanno comunicato sempre in maniera diversa, cioè oltre con le canzoni, le citazioni storiche dei testi perché poi erano fondamentalmente grandi citazioni, guerre, grandi condottieri, gli Iron Maiden. Esatto, cioè le magliette con sulle date storiche, la canzone con la data storica, il riferimento. E avevano tutto il mondo, cioè non erano supereroi ma raffiguravano con colori molto accesi, con dei mostri e comunque... Eddie che cambiava le forze. Esatto, quindi gli Iron Maiden molto... Quindi Frank che si ritrova in Eddie, vedi che c'è il filo con... Sì, bravi, sì, sì, sì. Beh, metalliche, cugini metalliche, facevano lo stesso, sì, sì. Quindi comunque c'è la necessità di comunicare la musica non solo con la canzone ma anche con le immagini, con... Sì, perché gli Iron Maiden, hai detto una cosa bellissima, gli Iron Maiden e poi Metallica, soprattutto gli Iron Maiden, sono un po' gli inventori, quelli che comunque hanno mandato alle stelle quello che è il merchandise. Sì, 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 sì. Loro proprio hanno tirato fuori la maglietta che comunica ma anche che uno va in giro per strada e dice o che ascolto gli Iron Maiden, voglio che voi lo sappiate fin da subito. E va di pari passo con la musica, ma oggi gira ancora la musica ma girano ancora le magliette degli Iron Maiden. Esatto, assolutamente. Sì. Dopo periodicamente torno, l'anno scorso vedi tutti in giro con la maglietta dei Guns N'Roy, per esempio. Penso che anche Axel ne ha un po' più nelle palle di vedere in giro solo a 13 anni con la loro maglietta. La croce di Appetite for the Extra. Perfetto, io direi che possiamo andare con l'ultima domanda e io vorrei sapere qual è, visto tutto il percorso che hai fatto, tutte le canzoni, fumetti, supereroi. Cioè qua io davanti, davvero un mondo, un universo incredibile, un multiverso, oggi sono entrato in modo da dire adesso in un multiverso pazzesco. Colorato mi auguro. Bravissimo, soprattutto colorato. E vorrei sapere qual è la più grande consapevolezza che hai acquisito. Ah, mamma mia, che chiusura, mamma mia. Ti lancio nella stratosfera. Guarda, è quella di guardare molto di più tutte le persone che incontro, in questo caso Mike, in questo caso dall'altra parte dello studio c'è Fila, giù c'è il maestro di pianoforte. E la consapevolezza è che ognuno è me stesso e viceversa. Cioè so che oggi Mike è un pezzo di Andrea, di schizzo, e viceversa. Quindi è il fatto di essere assolutamente tutti, siamo tutti legati, siamo. E questo lo sto capendo, mamma mia, quindi... E questo mi porta a un pensiero di bene. Il fatto di, forse sì, di pace, che sto azzerando quasi del tutto quelli che nella vita succedono per lavoro, per affetti, eccetera, sai, crezzi, litigi, blocco quello su Whatsapp, cioè succedono quelle cose perché... Però sto cercando di ammorbidire, di curare... Trovere l'altra dimensione... E di stare in pace col mondo. E non è facile, però già questo fatto quindi di parlare di bene fondamentalmente, di fare del bene. Ma a fondo perduto, tu le cose devi fare, devi fare del bene a tutti quanti e non ci devi pensare, nulla. Quindi questa è la consapevolezza di oggi che è il... Non so che data è. Che non so neanche quando uscirà. C'è la neve fuori però, non so... Esatto, bravissima, così siamo tranquilli. E col clima che c'è ci sta. Bravo, esatto. E quindi la consapevolezza di oggi è questa qua, questo di ritrovarmi in ogni singola persona che incontro, dico ma questo è un pezzo di me e viceversa. E mi dà un senso di pace ancora maggiore, questo dico ok, va bene. E mi aiuta a vedere il mondo in maniera diversa. Perfetto, direi che non c'è più niente da aggiungere Andrea. Adesso come faccio con tutti, c'è una piccola marchetta, andrò a darti il mio quadernino nero dove ti chiederò di scrivere una frase, un po' un karma, qualcosa che ti è venuto fuori dopo questa nostra bellissima chiacchierata che poi successivamente condividerò con tutti i nostri amici su Instagram. Grazie mille Andrea, è stato un immenso piacere. Grazie a te Mike, dell'ospitalità veramente buon proseguimento del viaggio. Anche a te, grazie. Ciao. Ciao, ciao.